Tasi. Quest'anno si può ritornare per i comuni a concepire detrazioni, facilitazioni per questa tassa. È un sistema che deve essere ben capito e applicato con attenzione, ma comunque dà delle possibilità di graduazione ai comuni. La graduazione è delle detrazioni che si possono fare per determinate tipologie, parliamo di abitazioni concesse e incomodate d'uso fra parenti di primo grado che possono essere applicate e che danno la possibilità di equipare alla prima abitazione anche in questi casi gli immobili. È un sistema che diventa più elastico, più interpretabile da parte dei sindaci e che quindi dà la possibilità di intervenire anche nelle fasce sociali disagiate con detrazioni d'imposta che di fatto magari possano annullare il gettito, quindi annullare la tassa di fatto. Quindi più libertà per i sindaci e più anche responsabilità.